E' diamine, che putiferio! Si è scatterata una vera caccia all'uomo! Anche se sarebbe più opportuno dire caccia al primate. Ma hai vista una cosa così? Roba da Guinness Day! Vabbè, lasciamo stare. E poi non è vero che sono aggressivo, pericoloso e non sono instabile! Ho lavorato molto sul mio autocontrollo negli ultimi anni. E non è vero che la mia intelligenza è scarsa. Sono stato istruito dai più grandi luminari della scienza e della letteratura, tutti premi Nobel! Per cui, anche se il mio cervello è un po' più piccolo del vostro, almeno il mio, non è pieno di tutta la spazzatura che c'avete dentro voi, nella testa! E i discorsi sulla razza! E la visione antropocentrica! La Champions League! Per cui mi sa che alla fine il fatto di intelligenza, forse, siamo pari! Ah ma, sapete perché sono qui? Perché qualcuno ve lo deve dire! Grazie! 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 Grazie!